che si imparenza con la ragione, con la capacità di realizzare. Ringrazio anche... Mi permetterete di dire che abbiamo bisogno della cultura, della storia, della ricerca, dell'arte anche come europei. Il fatto che negli ultimi anni le istituzioni europee abbiano accettato una riduzione delle proprie ambizioni giocando una dimensione molto burocratica e tecnocratica e poco di visione e politica è uno dei problemi dell'Europa, non dell'Italia. L'Italia casomai ha avuto un altro problema. Ha avuto talvolta una classe dirigente che ha pensato di utilizzare l'Europa per farsi dare indicazioni su quello che aveva fatto in casa propria, pensando così di vincere resistenze locali e indigene. È stato un clamoroso errore. al quale mi ricordo con un auspicio per quanto riguarda i miei sogni. Grazie. Grazie.